corsia 1 per la Leo Sport, seconda ai criteri a 50 Arfalla, Alessandra Garzetta corsia 2 per l'Hydros, Viola Magoga, alla 3 per il Team Veneto, Martina Franconetti in corsia numero 4 per il Team Veneto in questa gara finalista quest'anno agli assoluti di Riccione è stata bronzo di stafetta alle Universiadi di Napoli, nonché finalista olimpica a Rio 2016 Aglaia Pezzato al suo fianco corsia 5 per il Team Veneto in questa gara, titolo a Riccione e seconda ai categoria di Roma finalista agli assoluti di corta nei 50 Arfalla, Alessandra Marifulcis in 6 per la Fondazione Bentegodi, Nina Pettenella corsia 7, Alessia Cielo, Leo Sport e in corsia numero 8 per l'Imo Lanuoto, specialista della Rana, già campionessa di categoria a Roma Anita Bottazzo Occhi quindi a centrovasca con le specialiste del Team Veneto alla tre franconetti, alla cinque alle Miari Fulcis quindi Aglaia Pezzato in corsia 4 in questa gara un personale di 24 e 57 la quinta di sempre in Italia dunque testa a testa proprio tra Alessandra Miari Fulcis e Aglaia Pezzato per vincere qui al meeting di Halloween Aglaia Pezzato lo fa con 25 e 41 Alessandra Miari Fulcis 25 e 72 Iscriviti al canale